E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRI01 e oggi andiamo sempre su Pokémon Smeraldo Settimo Episodio Oggi qua ragazzi, ci siamo fermati qui nel sesto episodio, quindi andiamo avanti, ho attenzione E là sono Stefano, come sempre sto pescando con grande entusiasmo Ci sono altri posti dove posso pescare oltre mare e fiumi Mi viene voglia di pescare in qualunque luogo mi trovo Oh, accipite, la mia lenza è aggrovigliata Ti lascio, devo trovare nuovi posti dove pescare Va bene, si opera, va bene, si opera, va benissimo Abbiamo sconfitto il... Aspetta, forse no Forse i Pokémon sono tutti curati perché ci ha curato infatti il grande Bomber Ok, va ragazzi, andiamo qui sopra E qui sopra ci dovrebbe essere lo spazio libero Oh, il professor, il professor Birch Oh, Riki, che bello dirti qui, dove è Vera? Ah, capisco, andate in giro insieme Va bene così, ho sentito che ti hanno installato la funzione sfidaconino nel PokéNub Vai Perfetto, grande professor Birch Grande fratello Riki, ti prego, tieni tutto da Vera E bene, ora devi andare e ci vediamo Ok Andiamo Lotta in doppio Allora, aspetta Che c'ho? Mettiamo Giorgione, ragazzi Così livello entrambi, livello Ok, andiamo Lotta in doppio Attenzione Vai Mi raccomando, ragazzi Quelli di YouTube Seguimi anche su Twitch E faccio live ogni pomeriggio Dalle 3 Fino alle 7, così Sui Kun Girachi, bene Bene, incredible Mamma mia, ragazzi Ah, qui avveleno entrambi, ve lo dico Quindi, avvelenamento a lui E tu, non sciocca a Girachi Vediamo un po' Ok Vai avvelenamento Ok L'ho avvelenato entrambi, ragazzi Girachi c'ha una mossa che è il desiderio È sicura, tantissimo Infatti è un po' Un pezzo di cacca, ragazzi Allora Però il veleno ha effetto entrambi Quindi Let's go Quindi, allora Facciamo Graffio E tu, non sciocca a Girachi E tu, non sciocca, ragazzi Lo subisce Lo subisce questo Girachi Infatti è quasi brutto colpo Attenzione Bellissimo Graffio Non mi fa niente, purtroppo Dopo, trocca a provare Sanguisuga, ragazzi Comete Comete è una Mossa di merda Però togli, ragazzi Ma che c'ha, Bacca Arancia Che c'ha Bacca Arancia Dei Suicune Va bene E intanto Girachi Muore No, ragazzi Vi prego La Bacca Arancia Non ci sto credendo Ok, ora muore, penso Va bene, va bene, va bene Ok, Giotto Un'usato Uno sciocca a Girachi E addio Girachi Ciao, fratellino Bravo Giotto Un'intanto Ok, non sale del livello Di nessuno Entra Banette Oddio questo, ragazzi Parasette Sanguisuga Vediamo che cosa fa Ok, toglie pochino Allora Intanto abbiamo ucciso Suicune Col veleno Vediamo intanto Banette Ok Nessuno che sale del livello Intanto Giotto Non sta per morire Snorunt Bello Snorunt, ragazzi Avvegliamo tutti Non mi interessa Avvegliamo tutti Tuono sciocca a Banette Vabbè, perfetto Ragazzi, perfetto Eh, tuono sciocca Ragazzi, a Banette Non è tanto Belenpolvere fallisce Purtroppo, ragazzi Mi è molto Giotion 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 Mettiamo Fluffy Il grande Fluffy Il piccolino Il peccolino Perché è maschio Il piccolino Fluffy Guarda, il veleno Fa effetto A tutti, ragazzi Ok, Parasette Usa Graffio Oh, attenzione Snorunt Morso Bellotta è in doppio Bellissima, comunque, ragazzi Devo dire Privazione Ok, toglie poco Meno male No, non mi dico che c'è un'altra Horta baccaranze Tutte e due baccaranze C'hanno, guarda Ok, no Ok, il veleno Vabbè, io ho tolto Sei ripreso alla vita Per poi Per poi toglierla, diciamo Fa Graffio a lui Graffio Anzi, uccidiamo Snorunt Brutto colpo Attenzione Ok Azioni di Fluffy E addio Banette Abbiamo vinto questa sfida, ragazzi Molto Facili, diciamo Paraset Rivelo 20 Fluffy Niente, ok Va benissimo Registrazione di Isabella Grande Isabella Ok, allora Qua che è? Tre passi e due passi Per la favolosa Quizzoteca Quindi tre passi a finire A destra E due passi sopra Facciamola, ragazzi Proviamo a farla Qualcuno ti osserva O era il bicchiere Se ricordo, ragazzi Come hai scoperto Che era nascosto sotto il tavolo Ah, no Sotto il tavolo Ok Complimenti Perché io sono il più Grande mistero umano Vivente di tutta la regione Infatti mi chiamano Mago del quiz Piacere di conoscerti Tu sei per cui sfidare La mia quizzoteca, vero? Va bene, va bene Ok Puoi entrare? Sì, andiamo Ma io non mi ricordo, ragazzi Eh, erano tre passi Ok Olle Mi farò strada Verso la vittoria Con un colpo di taglio Serena, regà Oh, serena Oh, asere Asere Oh, sui noob Graffio Non è effetto, ragazzi Quindi è un tipo Ombra Spettro, tipo Buio Spettro Diciamo così Va, facciamo Velenpolvere Ok Morirà con Sanguisuga Meno male che ho messo Sanguisuga Come un'altra mossa Perché, ragazzi Sinceramente era Con solo graffio Non andava bene Perché se incontrava Qualche buio Spettro Non potevo attaccare Infatti Eccoci qua Allora Mi ricordo se io Già ho taglio O no, ragazzi Quindi No, non lo taglio Aspetta Non mi ricordo Sinceramente Dove si prende taglio Forse nella prossima palestra Quindi non possiamo Farla questa, ragazzi Quindi non possiamo Farla Quindi dobbiamo andare Di qua Ah, non è Ta, sono senza bici Quindi faccio un giro Rilassante Per la strada inferiore Va bene, andiamo Uh, aspetta È qua Se posso catturare Pokémon Vediamo un po' Chi troviamo Pichu Oddio Che carino Pichu Però vabbè Vabbè Lì usciamo Vai Super colpo Benissimo Affrontiamo questo Ragazzi Di pomo speciali Ha trovato Attenzione Di pomo speciali Vediamo un po' Che pomo Ma Motivo Giratina Boom Snubbull Benissimo Appelliniamo come sempre Allora L'avvenimento Su di lui Non ha effetto Quindi È di tipo Acciaio Ragazzi Vero Doveva essere Tipo acciaio Comunque Attacca con morso Usa grappio Vediamo Addio Snubbull Togliamo tutti Ragazzi Nidorino Vai Avveneniamo Vediamo un attimo Velen polvere Niente Ok Beccata Attacca prima lui Velen polvere Perfetto Oh mi ha avvelenato Anche a me Ragazzi Mi ha avvelenato Anche a me Ragazzi Non va bene Cazzo Non va per niente Bene ragazzi Questo avvelenamento Su Parasect Ok Andiamo a curare Subito Parasect Ok Eccoci qua Andiamo qua sopra Ok Vediamo un po' Che incontriamo Ragazzi Oddio ragazzi Ragazzi Poca vita Per favore Per favore Entra Ti prego Leggendario Non entrerà mai Ragazzi Non entrerà mai Ragazzi Ho troppo E poke Pokeball Non entrerà mai Uno Non entrerà mai Ragazzi Proviamo con la Megaball Per favore Per favore Per favore Uno Niente ragazzi Niente Pokeball Pokeball Uno Due Tre No Vai Vai di Megaball Megaball Dai Zaptos Per favore Pokeball Un'altra Pokeball Uno Niente Un'altra Un'altra Pokeball Vai Vai Ti prego Zaptos Ti prego Ti prego Vai Uno Due Niente Dai Zaptos Per favore Proviamo A usare La Premier Ball Vediamo Un po' Se entra Questo Cattivissimo Pokemon Proviamo Di Megaball Niente Ragazzi Dai Già Mi sono Fatto Scappare Chiogre Ti prego Zaptos Ti prego Ti prego Ti prego Mi sa niente Ragazzi Mi sa Anche Oggi Uno Due Niente Mi sono Rimasti Poco Poco Abbiamo Catturato Zaptos Ma comunque Ragazzi Zaptos Con la Pokeball Zaptos Con la Pokeball Ragazzi Oddio Oddio Zaptos Oh My God Di tipo Volanti Ragazzi Mamma Mia Zaptos Mamma Mia Ragazzi Sono tornato Niente Qua In ieri Non so Perché Però C'era Questo Non sei Righi Fammi Entrare Nel tendone Lotto Sì Era Buona Idea Anzi Nel tendone Lotto Dal meglio Di te Ma Ok Ok Ragazzi Andiamo Avanti Oh C'è Vera Attenzione C'è La nostra Amica Vera Righi De Quanto Tempo Abbiamo Un Leggendario Vera Vediamo Se ce L'hai Tu Parliamone Parliamone Forza Parliamone Vera Io qua Un leggendario Zaptos Forestress Va bene Allora Bene Impolvere Protezione Aspetta Se uno Usa Protezione Ve lo Impolvere Non va bene Cioè Non dovrebbe Ok Eh Ma non dovrebbe Fallire Ragazzi Protezione Se la usa Due volte Di fila Audio Audio Distruzione Oh Merda Ma Mettiamo Zaptos Riga Mettiamo Zaptos Mettiamo Zaptos Subito Eccolo Il fenomeno Barboc Ok Allora Proviamo Tuono Tuono Mamma mia Ragazzi Quanto Sei bello Quanto È bello Zaptos Riga Vai con Beccata Ok Meglio Tuono Shock Ok Zaptos Uccide uno A livello 18 Ragazzi Incredible Ma Ma Vero Grande Zaptos Sino Ok Oddish Ok Oddish Prima Fatua Non Shock Sempre Per Prima Ragazzi Paralizzante Fallisce E si gode E si gode Vapapero Vapauti Vai beccata Paralizzante Stavolta Ok Con beccata Ragazzi Toglie tantissimo Non ho capito Se è super efficace O no Perché non è Venuto scritto Quindi non penso Sia super efficace Paralizzare Non può attaccare Va bene Profumino Vai 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 Illusione Non può attaccare Oh ragazzi E dai E dai Big Brother Mi sa ora non riesco più a attaccare Ragazzi Mi sa ora proprio Non riesco più a attaccare Invece attacca Sia super efficace Ok Invece attacca Ragazzuoli Ok Livello 14 Perfetto 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 E addio vera Attenzione Detector Che cos'è E mette un suono Se lo calzino Ah ok 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 Perfetto Ma dove c'è la bici ragazzi Ragazzi Ho trovato Charmander Mentre stavo No No Oddio 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 ragazzi Ho trovato Charmander Oddio ragazzi No No lo rivoglio Lo rivoglio Lo rivoglio ragazzi Lo rivoglio Lo avremo Lo avremo Perché anche nei commenti Ho letto Che volete Charizard Quindi Vediamo un po' Vediamo un po' L'ho trovato qui Ragazzi L'ho trovato Lo ritroveremo Ragazzi Lo ritroveremo Ritrovato Oddio Oddio ragazzi Oddio 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 Aiuto Niente Ora prima che si cattura Poi questo Ragazzi Tre anni Tre anni ci vuole Sì mi sono andato a comprare Un po' di pokeball Nel mentre Uno Niente Usiamo la megabull Ragazzi Uno Due Tre Cazzo Vai capo Uno Due Oh ma è difficile Catturare anche uno starter Ragazzi Vai Uno Vai Inzio pera E oggi si cattura tantissimo Uno Due Tre Charmander Ragazzi Ed ecco qui Per ora la squadra Mamma mia che squadra Poi un lucertola Mamma mia ragazzi Ok Lotta Lotte in doppio Ragazzi Merda Charmander Per primo Ho messo Ragazzi Mi sa Devo cambiare Mi sa Devo cambiare Mi sa Devo cambiare Regiro Ok Charmander E Joltion Proviamo Con Charmander Tuono Shock Regiro Ok Super Efficace Per chi Mi ricorda Ora Ragazzi Bracere Va bene Va bene Va bene Va bene Allora Tuono Shock Regiro Regiro Rock E' andato A quel paese A dormire Incredibile Sarmander Livello 13 Imparamuro Di fumo Va bene Jolt Nel livello 20 Regi Stile Vabbè Questi sono tutti Regi Stile Ok C'ha tutto No Esplosione Ci ha fatto Ragazzi Morto Oh Mi sta Innamorare Tutti Pone Morto Zaptos Però ci sono Vediamo se Fluffy muore O no Resiste Spero che Fluffy Resiste Mamma mia Ragazzi Morte Totale Di tutti Pidgeotto Che è Pidgeot E Parasette Ragazzi Mi mette Shookle Mi sono rimasti Due Pokémon Incredible Incredible Ok Muore 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 Easy Questo Qua Ragazzi No L'acciaio Fallisce Ovviamente Per fallire Graffio E La Bolgi Botta Fallisce Veleno Vai Attacco Rapido Graffio Ok Addio Ora Tocca Ricurare Pokémon Let's Go Fratello Fratello Ok Siamo ritornati qua Allora Un'altra lotta in doppio Qua ci sta quindi Facciamo così così Ci prendiamo anche la Pokémon Qui sopra Vai Perfetto Sempre 2v2 Belle Ste Cosi 2v2 Comunque ragazzi Che belle Mi gusta Muccio Mi gusta Muccio 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 Altaria Web In pella Ok Allora Addio Altaria Addio Altaria Ragazzi Addio Proprio Altaria Tantissimo Charmander Livelo 14 C'è L'esolvi Charmander In Charminio Non sapete Non mi ricordo Ragazzi Bracione Molto Efficace Su De Ok Weapon Bell È Buono Choc Fratellino Ok Graffio Vai Perfetto Ragazzi Perfetto Easy Win Easy Win Per Ora Ora Curiamo Anche Charmander Ok Perfetto Ragazzi Allora Qui c'è Dato Elitir Buono Buono Buonissimo Ma Curiamo L'ultima Erba Ragazzi Incredibile Esce il Pokémon Ed esce Meo Benissimo Ok Allora Pista Ciclabile Ok Siamo arrivati A Ciclamipoli Ragazzi Ciclamipoli Qua c'è una Pokéball Intanto Ricky Trova Velocità X Perfetto Ok Ragazzi Siamo Arrivati A Ciclamipoli È una Bella Città Questa È una Bella Città Ragazzi È una Bellissima Città Ragazzi Devo dire Devo essere Sincero È una Bella Città Ok La squadra Ora ce l'abbiamo Ragazzi Ciao ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate Like Commentate Iscrivetevi Condividete il video Mi raccomando Ci vediamo Alla prossima E Ciao Belli Mua